Sta per succedere qualcosa che sta partendo da Evergreen Barbour Qualcosa di oscuro, di terribile Non è un'esercitazione, non è uno scherzo Qualche Sim presto soffrirà Una possibile apocalisse può essere La fine del mondo? Speriamo di no In collaborazione con Dada Sim Presto una nuova storia Una di quelle che vi lasceranno con un morso O stecchiti a terra Siete pronti? Seguiteci per saperne di più